Ha suscitato molte polemiche la trasmissione televisiva russa che ieri sera ha trattato il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa a Mazzara del Vallo in provincia di Trapani e quello di una ragazza somigliante a Denise Olesi a Rostov. Sono stati comparati i due gruppi sanguigni, risultati diversi. Poco fa abbiamo raggiunto il conduttore della trasmissione russa, Dmitri Borivov. Sentiamo che cosa ci ha detto in italiano. Rifarei tutto e chi dice di non sbagliare dice il falso. Penso la TV deve essere al servizio del cittadino. La cosa importante è che Olesi trovi felicità risolvendo il suo desiderio, ma sarei dispiaciuto in egual modo per tutte quelle famiglie che abbiano pensato fosse uno loro parente. Noi abbiamo cercato di aiutarla.